La sanità digitale effettivamente è dal mio punto di vista la scelta strategica più importante a medio e lungo termine. Tre livelli, un livello centrale. Il livello centrale è il fascicolo sanitario elettronico. Oggi abbiamo sentito di come a livello centrale ci si sta attrezzando perché il fascicolo dà un bel raccoglitore che ha sostituito i fax ma con dei pdf, quindi importante perché di fatto ha introdotto, anche se un po' di anni fa, ha introdotto il concetto che il fascicolo sanitario elettronico fosse unico e che il fascicolo sanitario elettronico fosse l'elemento che il cittadino in primis, il paziente in primis e poi tutti gli artori dovevano poter utilizzare. Abbiamo avuto qualche elemento di difficoltà nella costruzione in 21 regioni e quindi in un contesto regionale molto diverso. Quindi si stanno attrezzando, ci sono degli investimenti, stanno lavorando. Secondo tema a livello regionale. Oggi si discuteva se a livello regionale dobbiamo comunque mantenere i dati o comunque a un livello più basso di quello centrale e io credo di sì perché comunque la necessità di poter rielaborare oltre che al centro anche a livello regionale, in sanità regionali che hanno, che devono seguire indicazioni nazionali uniche. Il piano nazionale della cronicità è una legge che ci dice cosa dovevamo fare, cosa dobbiamo fare e cosa dovremmo fare in futuro. Quindi non abbiamo tanto da inventarci, anche se poi nelle regioni le declinazioni possono essere differenti. E poi abbiamo tutto ciò che riguarda la telemedicina. La telemedicina, il telemonitoraggio, il teleconsulto, la teleassistenza. Sono quattro cose completamente differenti tra di loro. Sono quattro aspetti della sanità digitale che chiedono con forza una ricaduta organizzativa nelle nostre aziende. Non è il software o l'applicativo o la soluzione nazionale o regionale di interconnessione che ci perpetrerà di raggiungere il risultato. No, perché quello è solo un pezzettino del problema. Avremo necessariamente bisogno di riorganizzare dentro le aziende. Quindi dietro a questo aspetto c'è anche un problema importantissimo per chi fa il lavoro del manager, per chi gestisce come direttore generale, sanitario, amministrativo, sociosanitario di rivisitazione dei processi.